Abbiamo anche un nuovo record, lo chiamano Popeye, esiste davvero, è campione a braccio di ferro e a mani giganti, ha della braccia con un diametro di 49 centimetri. Accidenti, mamma mia. Campionissimo appunto di braccio di ferro e non solo, vogliamo saperne di più, credo che ci sia un ospite particolare che ce ne vuole parlare. Uomo dalle mani grandi, Gianni Morandi. Eccomi qua, come stai tu? Ciao Gianni. Cosa ne pensi di questo uomo Teglia? Sono un po' geloso, devo dire la verità. Sono un po' geloso perché è anche un po' emozionante, Popeye esiste davvero, ha le mani giganti, Jeff Bain è venuto a trovarmi in casa mia a Monghidoro, mi ha raccontato che ha battuto tutti il Minnesota. Sì, campione del Minnesota. Cioè era lui contro tutto il Minnesota. Lui col Minnesota, ragazzi. Stavano in una mano. Ha le mani che sono il doppio delle mie. Ci siamo dati un 5 e per sbaglio abbiamo schiacciato Ramazzotti che era nel mezzo. Praticamente quando l'abbiamo schiacciato ho proprio sentito dire, stavano, stavano, stavano. Ho preso in pieno proprio. Perdonami Gianni, fammi capire Chiara, ripeti, la circonferenza del muscolo è di... Del braccio è di 49 centimetri. La maglia non c'è scritto ma è davvero gigantesca. È un siluro. Ci sta dentro Peppino, riesce a nascondere. Vi abbraccio a tutti quanti voi, lui può essere la banda, capito? Poi che è successo? Sono un po' geloso, essendo campione del mondo di Braccino di Ferro, primo mondo di tentare una sfida. Eh, caro amico mio Cristiano, te lo dovevo far conoscere Bait. Poi con Bait, dopo due ore a tavola, mi ha chiesto, li vuoi i tortellini? Lui ha alzato l'anno, ha sfondato il lampadario. Mamma mia. È finito al piano di sopra. Al piano di sopra. C'era Tozzi che scriveva le canzoni, ma l'ha sfondato. E poi ragazzi abbiamo parlato un po' di cose, poi non ci siamo capiti perché lui parla in dialetto stretto, nel Minnesota, che è una sorta di abruzzese-gallese. Ma cosa stai dicendo? Sì, una roba strana. Sì. E io ho riso molto, facevo... E lui diceva, mi fa ridere di questa cosa. E poi ho visto che... Poi si è rotto un po' il meccanismo tra di noi, perché cominciavo a provarci con Anna. E mi sono un po' arrabbiato, ho fatto di tutto per far finire di niente. Ma non ci provava solo con Anna, eh? No, eh? Anche con Vessicchio. No. Con tutti e due. Eh, si sa, una mano lava l'altra. Una doccia. Qua Vessicchio sembrava essere felice di questa cosa qua. Ah sì? Non è che gli dispiaceva, eh? No, 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 si avvicinava, faceva... Eh, c'è nata una certa amicizia tra di loro. Ma io questa cosa, me ne sono accorto perché mi hanno fatto notare rovazzo, noi l'abbiamo seguito per un po'. A quanti eravate? A poi. Festival Bar, cos'è? Casa mia è grande così, capito? Allora ho preso, l'ho detto, vai Bade, vai sul tetto, che ho messo la carta ingentata avvolta nelle mani, mi ha fatto il pannello sul solare per una settimana. Bello. Sì, sì. Bella idea. E comunque volevo dirvi una cosa. Ragazzi, lui sarà soprannominato Popeye per le mani, ma sotto è pisellino. No! Effettivamente ce lo si chiedeva, eh, questa cosa. Provate dalle spinacce, ma niente, adesso per sotto ci vuole un campo di cime di raba. Facciamoli conoscere Paolo Dini Poldo. Il panino di Poldo. Comunque andrà tutto bene, vedrete. Ah, sì, vi faccio sapere com'è andata. Io lo faccio rimanere qua, ma vi aggiorno. Ciao ragazzi! Ciao! E' We One! La banda di R101 E' We One! La banda di, la banda di, la banda di... R101